E' arrivata oggi la triste notizia, il cadavere rinvenuto martedì scorso sotto il viadotto della 14 di Eleonora Gizzi, 34 anni, educatrice di vasto, allontanatasi da casa il 28 marzo scorso. La conferma è arrivata dalla comparazione del DNA tra la saliva dei suoi genitori e il tessuto prelevato dal corpo. Gli esami effettuati all'ospedale clinicizzato di Chiedi hanno fugato purtroppo ogni dubbio. A dare la notizia al papà Italo e alla mamma Grazia, il vicequestore Cesare Ciammaichella che si è regato questa mattina a casa della famiglia. Solo l'esame del DNA ha potuto stabilire se il cadavere in avanzato stato di decomposizione fosse quello di Eleonora a cinque mesi dal suo allontanamento da casa. Martedì l'ha scoperta da parte di un tecnico della società autostrade durante verifiche dei piloni della 14. Il papà di Eleonora Italo Gizzi ha corso subito sul posto, non aveva avuto dubbi sin dall'inizio. Sono certo, disse che sia lei, me lo sento. La cosa che mi tormenta è che è poco distante da casa, ma soprattutto sono luoghi che sono stati battuti da chi la cercava. Il luogo del ritrovamento infatti è in via Salce, proprio a ridosso di un pilone della 14, in un tratto non visibile ai passanti, ma in una zona seppur decentrata, abbastanza trafficata, meno di due chilometri tra l'altro dall'abitazione della famiglia Gizzi.